e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi siamo qua per vedere come va la nuova action camera ovvero la dji osmo action sto facendo un prova video e audio sperando che possa essere soddisfacente soprattutto l'audio proprio un giro così breve breve appunto per vedere il funzionamento devo dire che comunque come impostazioni come settaggi e anche come velocità di utilizzo è molto meglio a primo impatto rispetto alla i4k plus che avevo prima ma è molto diciamo più veloce a livello di utilizzo perché in pratica si preme un tasto e con diciamo il quick shot il quick start in pratica parte subito a registrare senza bisogno di star lì sempre a schiacciare mille tasti si schiaccia un tasto e registra quando si vuole spegnere si schiaccia ancora il tasto e si spegne a livello di impostazioni come ripeto è molto intuitiva comunque e niente tutto qua se l'audio sarà di qualità vedrete questo video se no nada test dji osmo action il microfono è lo stesso che utilizzo utilizzavo per la per la i4k plus l'adattatore ovviamente è un altro e le proprietà e diciamo è l'originale dji quindi niente che ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video breve video test test audio e quindi niente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima ciao ciao ciao